Emozioni, pensieri, idee, celebrazioni pubbliche, mostre e non soltanto. Sono 190 i comuni toscani che hanno aderito alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante e che dunque si apprestano ad essere protagonisti di un calendario fitto di eventi per onorare la memoria del sommo poeta. Dal monte Falteron al mare, dalla Maremma alla Lunigiana, passando per quelle vie di Dante della città metropolitana di Firenze da cui transita quel treno celebrato anche dal ministro Franceschini, Alighieri sarà protagonista come a Fiesole, di letture di piazza, oppure di mostre ad hoc come all'Accademia della Crusca o come proposto a Castagno d'Andrea, là dove nasce l'Arno, nel comune di San Godezzo. Da sottolineare anche la partecipazione di artisti come Simone Cristicchi, che dopo aver letto Dante a San Mignato potrebbe ripetersi nella Basilica di Santa Croce. Innanzitutto devo dire che le occasioni in Toscana su quello che è ricordo dei 700 anni di Dante non solo non mancano, ma stanno crescendo e acquistando sempre più un significato molto molto forte. Non passa un giorno che in Toscana non ci sia un evento di particolare caratterizzazione su Dante. E ora oggi presentiamo il club, ovvero il fatto che 190 comuni hanno presentato domanda con il loro progetto per un'iniziativa su la Divina Commedia e Dante. 190 comuni su 273 della Toscana. Però devo dirvi che giovedì scorso a San Mignato, vedendo il monologo straordinario di Cristicchi sul Paradiso, ce n'è una che non trovate nella cartella stampa. Voglio a settembre potare Cristicchi a Santa Croce. Il progetto Dante Otosco è stato presentato nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze alla presenza del Presidente regionale Eugenio Gianni, della Presidente della Commissione Cultura Cristina Giacchi e del Delegato Metropolitano al Turismo Tommaso Triberti e si basa su un finanziamento di circa 280 mila euro. Al programma di spettacoli si unisce anche l'attività del portale Dante Otosco 700.it che raccoglie le attività di enti locali, associazioni e ambiti territoriali e che continua a catturare l'attenzione di appassionati italiani non soltanto, grazie al programma dettagliato dei 148 eventi danteschi ma anche ai contenuti multimediali, molti dei quali firmati da attori e musicisti di grande livello. Con il portale Dante Otosco noi abbiamo raccolto tutte le iniziative che enti locali, associazioni culturali, ambiti territoriali fanno su Dante. Stiamo parlando di oltre 150 grandi eventi, alcuni in italiani, altri addirittura in inglese visualizzati da oltre 60 mila utenti con una permanenza media sul sito di oltre 1 minuto e quasi 2 minuti di tempo quindi c'è grandissima attenzione a livello nazionale e internazionale per questi eventi legati a Dante che completano il panorama di Dante diffuso. Attività, promozione da parte di tutti gli enti sono in campo per questa importante ricorrenza che sarà una grande opportunità per tutti i comuni. A partire da Marradi o meglio anche a Marradi con tutti gli eventi che già ci sono stati ma dal treno di Dante a tutti i percorsi che sono anche collegati direttamente e indirettamente sulle città metropolitane in Firenze, sulla regione toscana, la toscana promozione, tutti gli enti insomma sono tutti in prima fila.